Si chiama Fabrice Di Mie, è un fotoreporter francese che alcuni giorni fa, accompagnato dall'assessore al turismo Leo Petruzzella, ha visitato Molfetta per realizzare un reportage fotografico sulle bellezze della nostra città. A bordo di una barca messa a disposizione dai pescatori molfettesi con la collaborazione dell'Asso Pesca, Di Mie ha potuto realizzare numerosi scatti del centro storico e dei cantieri navali visti dal mare. Poi un giro per le strade della città vecchia, alla scoperta dei vicoli e degli scorci più suggestivi. Il materiale realizzato servirà per una inchiesta sui luoghi del turismo pugliese, che verrà pubblicata a settembre sul periodico francese dedicato al mondo femminile, edito dal gruppo Mondadori, Plan V Magazine. A coordinare la visita di Di Mie a Molfetta è stato l'ENIT, l'ente nazionale italiano per il turismo, che favorisce le visite dei giornalisti stranieri alla fine di promuovere le risorse del territorio. Il fotoreporter francese, nel suo viaggio in Puglia, ha avuto modo di visitare anche numerose località del Gargano, Barletta, Trani, Biceglie, Bari nel corso dei festeggiamenti in onore di San Nicola e molte città del Salento, a cominciare da Lecce. Siamo felici dell'attenzione dimostrata dall'ENIT e dalla stampa estera nei confronti della nostra città, ha dichiarato Leo Petruzzella. Il nostro obiettivo è quello di fare entrare Molfetta in un circuito turistico ampio e interessante per i turisti. Un obiettivo evidentemente non così semplice da raggiungere, tra servizi che mancano, musei chiusi e mai aperti, chiese e palazzi storici inaccessibili. Ma si sa, la speranza è sempre l'ultima a morire.